bellissima a tutti ragazzi, il nostro buffon color che vi parla fobby j youtube o analchia vabbè ben buona grazie, sono youtube o analchia e oggi siamo in un nuovo video vlog 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 episodio sul sul mega polish proviamo ciao siri io ti amo è molto felice, parla di amore c'è sentite quello che dì non so se ho capito bene cerca su youtube analchia ok ecco cosa ho trovato su internet su youtube analchia dunque oggi vorrei farvi vedere ok ve lo farò vedere un'altra volta quando mi torna il mio iphone mascolino ok ecco cosa ho trovato aspettate favij non so se ho capito bene favij tv youtube ecco cosa ho trovato su internet favij youtube ok ecco cosa ho trovato su internet su favij youtube dm e la favij c'è c'è c'era scritto nell'episodio di un mese fa prodotto non esplosivo ok ecco cosa ho trovato su internet prodotto non esplosivo mi dispiace mi dispiace c'è una guardia dunque io sono qui per te comunque c'è sentite quello che vuole io ti amo e quante cavolate mi hai detto in questo anno non è possibile non è possibile quante cavolate mi hai detto ok ecco cosa ho trovato su internet su quante cavolate mi hai detto mi hai detto vabbè lasciamo perdere la signori se vorrei ritrovare questo è quello di mia madre e c'è un piccolo problema che non so che mascherino mascherino vabbè raga potrebbe chiudersi così il nostro vlog bella ragazzi ci vediamo il prossimo video se il video vi piace di tutto iscrivetevi e fare un nuovo vlog bella ragazzi più la 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 la